Benvenuti nel mio canale. Siamo insieme con un nuovo episodio molto divertente. Ates e Leila si sono baciati in piscina. Leila si scotta molto per questo bacio. Ovviamente gli piace il fuoco. Penserà che i sentimenti sono reciprochi. Vorrà parlare con Ates del giorno prima. Mentre Ates chiede a Leila come è andata la tua serata, Leila è molto timida e timida. Leila dirà che è andata bene, Leila glielo chiederà e lei risponderà che Ates se la caverà e continuerà. Il fuoco si comporterà come se non ricordasse nulla. Ma penso che si ricordi. Era molto colpito da Leila. Era molto geloso di aver lasciato la festa con Umut. Tornò a casa quando si era accordato con Vige per andare a casa sua. Questi in realtà mostrano che Ates ricorda tutto ma non lo mostra. Nel frattempo, Jakob e Onura hanno visto Leila e Ates baciarsi. Jakob crede che vada tutto bene e che Ates si stia muovendo verso la trappola. Ates prende le informazioni sull'identità che Leila ha fornito all'hotel. Ma per non vederli, Leila chiede aiuto a Meriem. Ates viene anche a sapere di Ilgaz che scappa di casa e scrive sui muri dell'azienda. Questa situazione di Ilgaz calmerà Leila Ates sul motivo. Pertanto, il rapporto tra Leila e Ilgaz sarà migliore di prima. A Vige non piace il riavvicinamento tra Leila e Ates. Quando Bige ha chiamato Leila un avadante, Ates ha avvertito Bige e ha detto che si chiamava Leila. Bige ricorderà a Leila chi è in ogni occasione. Kerem ricorderà di aver baciato Leila. Riuscirà a impedire l'apertura della busta dell'albergo? Se Leila si è innamorata di Ates, è successo. Come fermerà Jakob? Seguimi per la risposta a tutte queste domande e non dimenticare di iscriverti al mio canale. Ricevi una notifica dei miei nuovi video attivando le notifiche. Arrivederci.